Pianto uovo triturare i gusci d'uovo triturare i gusci d'uovo salve a tutti, siamo le Black Chimiche scommettiamo che riusciamo a creare dei vasetti biodegradabili con gusci d'uovo che andrebbero altrimenti a finire nella spazzatura? infatti la maggior parte di noi pensa che i gusci d'uovo siano semplicemente spazzatura tuttavia si possono rivelare risorse utili per la vita quotidiana un guscio d'uovo è composto da carbonato di calcio al 99% avreste mai immaginato che i gusci d'uovo possono essere utilizzati per pulire pentole per rinforzare le unghie irritazioni cutanee e punture di insetti biancamento per vestiti per realizzare candele e anche come integratore per una dieta povera di calcio oppure come vi faremo vedere noi oggi possono diventare dei vasetti biodegradabili per rinforzare le unghie grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501